In questa metà degli anni sessi tu cominci a darti da fare in qualche modo, perché si vede che ti muovi, opere, stimoli, cerchi. Sì, perché è una reazione che c'è, intanto devi pensare che il substrato è Bari, una piccola città, di provincia, dove anche le novità si sentono, si comincia a dire l'acqua eccetera, allora ti invitano a Lions Club, ti invitano le donne pacifiste eccetera, e quando vai lì poi il giornale ti dedica una colonnina, e allora le dice, allora vieni anche a fare la conferenza, anche a conversano, sì perché no, c'è la parrocchia di Moicata, sì perché no, e a poco a poco si diventa, in questa piccola provincia, in questo piccolo tessuto ambientale, no? E diventi un uomo pubblico. Tra l'altro tu scrivi sulla gazzetta da i miei anni sessi anni, mi facevano scriversi qualche cosa. E' anche un nome noto in basso. Ma poi sai, avevo 500 studenti all'anno e quindi tutti i commercialisti di Bari sono passati dal mio esame, alcuni allegri, alcuni scontenti, così, ancora adesso qualcuno mi ricorda, dice ho fatto l'esame con lei, capisci? E questo è stato anche il motivo per cui mi hanno cercato dal punto di vista politico più avanti, no? Perché non è che uno fosse un uomo politico, un uomo pubblico, ma era inevitabilmente noto, sia perché fecevo il professore, sia perché parlicchiavo quasi, sia perché mi occupavo di cose abbastanza che interessavano la gente, ma addirittura, una piccola parentesi, io ho finito i miei anni da assistente facendo delle ricerche sulle frodi alimentari e ho goduto della straordinaria stagione della lotta contro le frodi che c'è stata negli anni 59-60, in cui anche lì si andava in piazza, no? Una pagina delle lotte popolari che è stata quasi dimenticata, che io ho vissuto intensamente e in quel periodo chi parlava di frodi alimentari era il professore di berceologia e mi ricordo che si faceva un congresso, mi ricordo uno favoloso, la provincia di Milano ci invitò in grandi alberghi a parlare delle frodi e appena sono arrivato a Bari, è la prima uscita pubblica, diciamo così, e è stata proprio a parlare delle frodi alimentari, delle frodi dell'olio, certo? Non ti piacerebbe di fare questa? È una pagina della... Sconoscita, ormai... Sì, sì, ma di grandissime... insomma, i giornali parlavano delle frodi in prima pagina, no? E' stata anche... c'è stata anche un'azione, un effetto politico, perché sono state iscritte le leggi fasciste sulle leggi degli alimenti e sono state iscritte in sana pianta con questa nuova ottica di attenzione per i consumatori, per l'ambiente, eccetera, quindi capisci? Anche per questo ero un po' noto, soprattutto in un paese piccolo, insomma, la regione è piccola, decentrata. Però io so, per esempio, che in questo... che in questo... che in questo poi non eri solo chiamato, cioè eri tu che in qualche modo diventavi spesso stimolo... ti faccio un esempio adesso per dire una cosa che a me ha colpito tantissimo dei documenti che ho letto nel tuo archivio a Brescia è il fatto che tu a un certo momento... come inizia il percorso che ti ha portato poi ad essere a Stoccolma? E' che tu scrivevi, leggeri sul giornale, ma degli appigli appena, cioè un articolo su una conferenza di un vescovo, di un qualcuno su una determinata questione che aveva attinenza con quello che ti interessava, che facevi, e subito gli scrivevi, ho letto che lei ha... e questo magari una volta ti... tre volte su quattro non ti dava o non ti rispondeva o non ti dava la risposta che ti soddisfaceva, però per esempio a un certo punto sei incappato in Bartolomeo Sorge. E quello è stato poi un percorso che ti ha... ancora prima con la cittadella cristiana, mi ricordo mi hanno invitato, poi una volta dice l'ambiente, l'ambiente è diventato di moda, l'acqua è così, e lui dice vieni a parlare, ed io ho conosciuto Gremiglion che era un arcivescovo americano che è stato poi il segretario di giustizia e Pax per qualche tempo, e sì perché poi si finisce per essere un circolo, no, no, un circo, e allora ti dice vieni a questa conferenza qua, e poi ero giovane allora, quindi 66, quanti anni avevo? 40 anni. Mi divertivo, avevo voglia, e quando mi chiedevano dicevo sì, sì, insomma. Un capitolo importante che, insomma, un po' ricostruito, me ne ha parlato tanto, che è andato avanti un po' di anni, però poi alla fine si è richiuso su se stesso, è stato questo impegnamento, diciamo con le strutture della Chiesa, Stoccolma, poi giustizia e Pax, ma è stato bello, diciamo, un interesse importante. Sì, sì, molto divertente, sì, ma poi improvvisamente, poi sai come capitano le cose, no, a un certo punto non servi più, avviene altra gente, nessuno poi ti fila più, niente. Perché questo ha avuto vari aspetti, cioè c'è stata la preparazione in Stoccolma e poi Stoccolma. Che è poi Stoccolma e poi 5 a 4 anni di giustizia e Pax. E anche i corsi alla Terra Mense, cioè erano diverse cose, in realtà, no? Sì, anche lì, non lo sai, sai, trovi uno, c'è, devi andare a parlare di ecologia, ma se ne devi andare a parlare di ecologia, ai preti perché no, insomma, ma ho fatto poche lezioni. Però poi questa cosa si è esaurita nel 76, 76, 78, sì, è scomparsa, io mi viene da pensare perché loro a un certo punto come abbiamo scritto, l'hanno chiuso questo discorso, cioè non l'hanno chiuso. Poi sai, a questo mondo quando tu hai successo, devi mettere in conto che dopo poco finisci. Quindi altre persone sono arrivate a parlare di queste stesse cose, io forse mi sono interessato di meno, io cominciavo già a avere impegni a sinistra, quindi per qualcuno finivo per essere considerato un comunista, cioè un periodo in cui mi hanno invitato nell'Unione Sovietica, a fare uno di quelli italiani spiedi ragazzi, anche come si faceva. E poi, sì, siamo già negli anni 70, quindi c'è già l'austerità, Berlinguer mi hanno invitato a parlare all'Eliseo una volta, e io parlavo sempre le stesse cose, io ho sempre fatto lo stesso discorso senza muovere un dito, che era quello di dire che cosa occorre produrre, a che cosa serve, per che cosa e che effetti ha. E poi l'unico discorso che ha interesse e di cui so parlare, no? La gente delle cose ha bisogno di mangiare, di vestirsi, di abitare e di muoversi, questi sono i bisogni, no? Tutto questo può essere fatto con diversissime cose, che sono tutte oggetto materiale, no? E quando dice ci sono dei bisogni immateriali, ma non c'è nessun bisogno immateriali, c'è bisogno di bellezza, ma come fai te a goder la bellezza? Cosa fai? Ti metti davanti a quei piri lì e ferma, un zitto e quieto. Se vuoi vedere la bellezza di un quadro, eccetera, ci devi andare, devi avere il vestito, le scarpe, all'automobile, per andarci. E tutto questo ha un costo. Allora quando dicevo all'impatto ambientale, è abbastanza ovvio che ciascuna di queste cose ha un costo e poi a questo punto è un costo che nessuno valuta in lire, no? Cosa costa andare a vedere il museo? Costa 100 lire di autobus, ma non è quello, no? L'autobus ci vuole, l'autobus, no? Allora anche il discorso dell'economia e dell'aspetto insoddisfacente dell'economia nasce poi tutto di lì, dai bisogni che tu hai e dalla massa di cose che servono per soddisfare questi bisogni, alcune delle quali sono monetarie, monetizzabili, calcolabili, ma altre no. E dice, l'amore non ha bisogno di niente. Ma come non ha bisogno di niente? L'amore è un amore sulla strada, per terra, e poi comunque ti ci vuole la strada, no? E poi comunque devi essere vestito a periodi spogliati, capisci? Allora questa attenzione anche, diciamo così, politica, no? È derivata dal fatto che diciamo sempre le stesse cose, che qualcuno capiva e qualcuno no. Grazie a tutti.